Bebbe, decine e decine di mail, decine e decine di fax alla federazione internazionale e finalmente questo sogno si sta coronando. Tu sarai tedofora alle Paralimpiadi di Londra 2012. Quando hai saputo questa bella notizia? Mi hanno detto che c'era questa possibilità da un po', però mi hanno confermato ieri sera, per cui non ho dormito molto stanotte. Quindi una grandissima emozione. Che cos'è per te una Paralimpiadi? Praticamente io ci vado perché un sacco di gente, tipo Oscar, la Porcellato, la Giussi, mi ha detto che devi andare perché è bellissimo, perché ci sono emozioni che provi solo là e cose così. Per cui vado per provare, per vedere quello che mi dicono. Per me la Paralimpiadi è un'olimpiadi più bella. E' più bella. Tu porterai la torcia, la fiamma olimpica, quindi sarai una delle poche persone privilegiate che farà arrivare questa fiamma dentro lo stadio. Sarai tu a dare il via a questi giochi? Spero, non so se sarò l'ultima, magari essere l'ultima, però la cosa che mi piace è che mi hanno scelta perché hanno scelto un gruppo di 5 persone nel mondo, ognuna che doveva fare qualcosa, un futuro Paralimpico, un ex campione, tutte cose così. Ed è bello perché hanno scelto mai tutto il mondo, per cui è emozionante. Senti, è Giravoce che ti era stata fatta un'offerta per essere presente alle Olimpiadi. Tu invece hai preferito rinunciare a questa opportunità per essere presente invece alle Paralimpiadi. Le due cose purtroppo non erano conciliabili. Hai fatto questa scelta perché? No, perché praticamente la Samsung mi aveva chiesto se potevo andare a rappresentarli portando la fiaccola per loro. Però, siccome c'è una regola che dice o Paralimpiadi o Olimpiadi, ho paura, mi stessero guardando. C'è troppo silenzio! O Paralimpiadi o Olimpiadi, allora ho scelto, no vabbè, vado alle Paralimpiadi perché mi sembra una cosa più bella, più importante, più divertente. E tutto per cui ho detto, mi diverto di più di là. Quindi, quest'anno sarai Tedofora, tra quattro anni invece a Rio sarai protagonista, almeno speriamo. Beh, protagonista no, però vabbè, andrò a partecipare e spero di andare a partecipare, sia con l'atletica che con la schermo. Anche se con l'atletica, cioè è un po' presto dire vado alle Paralimpiadi. Cioè devo ancora iniziare e già dico, boh, vado. Mi hanno insegnato a puntare alto e poi vedere se riesco ad arrivarci. Quando hai ricevuto questa bella notizia, cioè che cosa è successo in famiglia, cosa hanno pensato e ti hanno detto i tuoi amici, anche i atleti che tu conosci? Allora, la Francesca è quella che mi ha fatto più feste, diciamo, l'ha porcellato. Mi ha detto, ah, bellissimo, bellissimo, devo venire a vederti a tutti i costi, sei grande e tutto conto. Era più agitata di me la Francesca. Poi, vabbè, mamma e papà, tutte le volte, ah, bene, bello, grande. Poi, papà, ogni tanto si inizia a fare i suoi film mentali. Bene, adesso andiamo, organizziamoci, ci vediamo e tutto quanto. Per cui ha fatto tutto un film da solo lui. Poi mia mamma e i miei fratelli contenti. E tutti i miei amici che mi continuano a chiedere, ma non sei emozionata? Ma non sei emozionata? E io, vabbè, manca ancora più di un mese. Per cui, per ora, sono tranquilla. Quando sarà il momento, sarò emozionata. Grazie.